Quello che stiamo vedendo in questo grafico è la caratteristica di ingresso del nostro transistor, ma vediamo come si ottiene e che cosa rappresenta. Partiamo dal nostro schematico. Vedete che ho preso il classico transistor, un NPN piccolino per piccoli segnali, un BC847, ma potete replicare la simulazione o l'esperimento con qualunque altro transistor, un resistore da 120 ohm posto fra il collettore ed un'alimentazione fisso a 12 volt e in ingresso ho messo, quindi in base, un resistore da 4700 ohm e un generatore di tensione. Questo qui, generatore di tensione, è programmato per fornire tensioni variabili a passi di 0,25 volt da 0,55 a 3,3 volt. Quindi ho effettuato una simulazione con LTSpice e quello che ho ottenuto è l'insieme di curve che vedete qua sopra. Quindi partiremo da, vedete, 0 millivolt fra base ed emettitore, fino a trovare il punto fondamentalmente in cui il transistor veramente entra in conduzione, che è, lo vedete qua, dove queste curve diventano veramente quasi verticali, quindi l'andamento esponenziale è ben evidenziato, eccolo qua. Quindi intorno a 700 millivolt abbiamo che il nostro transistor passa sostanzialmente dalla condizione in cui è spento alla condizione in cui è pienamente acceso. E perché facciamo queste cose? Beh, perché noi vogliamo capire come si comporta il transistor in ingresso e quindi andare a polarizzarlo correttamente. Quindi vediamo che la corrente in base ha un andamento sostanzialmente piatto, nullo, fino a circa 500 millivolt sopra, comincia ad aumentare e vedete che la corrente diventa misurabile. Quindi vediamo che, per esempio, con 3,3 volt di tensione d'ingresso VI, un resistore a 4.700, la corrente in base è oltre i 500 microampere. E questo ci garantirà che, con il guadagno del transistor, avremo una corrispondente corrente in collettore di almeno una cinquantina di milliamper, per esempio. Ok? Quindi questo è lo scopo per cui facciamo questo tipo di misure, andare a vedere come si comporta il transistor dal punto di vista dell'ingresso. Ma in uscita, che cosa otteniamo? Cioè la tensione fra collettore ed emettitore. Qual è? Beh, allora, innanzitutto dobbiamo capire se vogliamo far lavorare il nostro transistor in zona lineare o in saturazione. In questo caso, per esempio, io potrei volere un semplice invertitore, un NOT, e quindi dobbiamo vedere se riusciamo ad ottenere un NOT con 120 Ohm di resistore al collettore e questo tipo di polarizzazione in base. Allora, vado a modificare la mia simulazione. Qua, in ascissa, vado a togliere la tensione di base e vado a mettere, attenzione fra collettore ed emettitore, la VCE. Ecco qua. Quindi ancora però sto visualizzando la corrente di base. Quello che devo cambiare qui sopra, ovviamente, in ordinata, è la misura della corrente. Quindi andrò a togliere la corrente di base e andrò ad aggiungere, per esempio, la corrente di collettore sul transistor Q1. Ok? E questo che vedete è l'andamento delle correnti. Quello che stiamo vedendo è quindi l'andamento della corrente in collettore al variare della corrente sostanzialmente in base. E quindi vediamo che, di conseguenza, anche la tensione fra collettore e emettitore ha un andamento che, onestamente, qui è difficile un po' da interpretare, però ci dà semplicemente l'indicazione di quando il transistor è in saturazione o meno. Cioè, vedete che, per esempio, con 12 volte di tensione fissa sull'alimentazione noi otterremo che, con 3,3 volt, vedete che la corrente ha questo andamento e la tensione del collettore scenderà a questo livello. Ma qui ancora non è molto chiaro. Quindi facciamo un'altra cosa. Andiamo a modificare la nostra tensione di alimentazione. Andiamo a prendere da una tensione fissa, invece, una tensione variabile. Quindi partiremo con, al tempo, 0,0 volt e dopo 100 millisecondi avremo 12 volt. Quindi rifacciamo la simulazione e, ecco qua, quello che otteniamo sono le curve della caratteristica di uscita del nostro transistor, che sono quelle che, generalmente, sono riportate sui testi, sui libri o anche nei datasheet. Quindi vediamo l'andamento della corrente di collettore al variare della tensione di alimentazione e della corrente in base, quindi della tensione con cui pilotiamo la base, questa VI. Quindi facciamo cambiare la VI da 0,55 a 3,3 volt, con passi di 250 millivolt. Quindi cambierà la corrente in base e, di conseguenza, facciamo anche uno sweep in tensione, sulla tensione di collettore. Quindi passeremo da 0,12 volt attraverso questo resistore. E quello che otteniamo sono una serie di curve, come mostrato qui sopra. Quindi vediamo che, per esempio, con 0,55 volt di alimentazione, il transistor sostanzialmente non va in conduzione e quindi la tensione di collettore, quella fra collettore e emettitore, sostanzialmente replica la tensione di ingresso. Quindi abbiamo una VCC che passa da 0 a 12 volt. Quello che otteniamo è che la tensione di collettore e emettitore, anche questa, va da 0 a 12 volt, perché il transistor sostanzialmente è spento. Aumentiamo la tensione di base a 0,8, quindi 0,55 più 0,25 fa 0,8 e otteniamo questa prima curva in blu, in azzurro. Il blu sarà questa sopra, quindi questa in azzurro. E quello che vediamo è che il nostro transistor comincia ad andare in conduzione. Ovviamente la corrente in collettore non potrà raggiungere grandi livelli, ma si fermerà intorno a 0,5 mA e la tensione di collettore scenderà al massimo fino a 11,5 volt. Così facendo aumentiamo la tensione fra base e emettitore e quindi anche la corrente e vediamo che piano piano la tensione fra collettore e emettitore scende. Ma vediamo che non scende poi così quanto vorremmo, perché per esempio non abbiamo ancora ottenuto un NOT vero e proprio, un invertitore. Vediamo che la tensione di collettore si ferma a circa 4,2-4,3 volt. Adesso stiamo a zoomare, a vedere un po' nel dettaglio, ci interessa di capirne l'andamento qualitativo. Quindi questa tensione fra collettore e emettitore scende, ma non scende fino a circa 0 volt. Quindi non abbiamo un vero invertitore. Perché? Perché la corrente in base non è sufficiente. Quindi io o aumento la corrente in base, per esempio qui proviamo a fare un esperimento. Mettiamo 2700 Ohm e vediamo che cosa succede. Ecco qua. Quindi io ho aumentato la corrente in base andando a ridurre la resistenza di polarizzazione del mio transistor e vedete che la tensione fra collettore e emettitore è scesa a circa 0,6 volt. Oppure aumento la resistenza in base. E di conseguenza ridurre anche la corrente di collettore, che qui è prossima a 100 mA. È un pochino elevata. Per esempio mettiamo 1200 Ohm. Rialziamo la resistenza in base a 4700. Così torniamo a prima. Ricordiamoci che eravamo intorno ai 4,2-4,3. E quello che otteniamo, eccolo qua, che con 1200 Ohm di resistenza fra il generatore di alimentazione e il collettore otteniamo che la nostra tensione fra collettore e emettitore va praticamente a 0 volt. Quindi otteniamo la tensione di collettore e emettitore in saturazione con meno di 10 mA. E è una corrente più che tollerabile per il nostro transistor. Vediamo invece che ancora 0,8 volt di alimentazione non riusciamo a scendere sotto i 7 volt fra collettore e emettitore. Però, quindi 0,55 è 0,8, 1 volta 0,5 la curva rossa è già soddisfacente. Entriamo tranquillamente in saturazione e il nostro transistor fa effettivamente quello che deve fare, ovvero l'invertitore. Quindi, a cosa ci servono queste curve? Ci servono a stabilire quando il transistor lavora in zona lineare o in zona non lineare. Per esempio, se qui mettiamo 470 Ohm, andiamo a vedere che cosa otteniamo. Ecco qua. Vediamo che in alcuni casi il nostro transistor va bene in saturazione, in altri ancora continua a lavorare in zona lineare. E quindi vedete che la corrente in collettore non è determinata dal carico, ma semplicemente dalla resistenza di polarizzazione. Allora, aumentiamo ancora la corrente, quindi per esempio mettiamoci 270 Ohm, eccolo qua. Oh, bene. Ok, queste curve sono un pochino più interessanti, nel senso che abbiamo la caratteristica di uscita, vedete qui, ancora per tensione di alimentazione fra 0,12 Volt e tensione di pilotaggio del nostro transistor di 0,55, 0,8, 1,05, 1,3, 1,55, 1,8, 2,05, ancora non permette di avere transistor in saturazione, ma andiamo in saturazione con le tensioni superiore. Quindi questo circuito, per esempio, funzionerebbe tranquillamente con un ingresso di tipo logico fra 0 e 3,3 Volt e ci permetterebbe, nonostante i 44 mA, di avere un'inversione. Ad ogni modo, riepiloghiamo come si generano queste curve, per esempio, ripartiamo dal primo esempio, 120 Ohm e 4700 Ohm, ok? Quindi ottenevamo queste curve. Allora, come si fanno? Se siamo in laboratorio, abbiamo fisicamente i nostri strumenti davanti, montiamo il nostro circuito, per esempio, su una breadboard e partiamo con una tensione di alimentazione, quindi avremo bisogno di due generatori, quindi quella per alimentare la base a 0,55 Volt, 0,5, quello che volete, poi andiamo a variare la tensione fra collettore e demettitore, quindi andiamo ad agire sul nostro generatore V2, lo portiamo da 0 a 12 Volt, quindi prendiamo vari punti, effettuiamo varie misure, per esempio, all'inizio molto vicine una all'altra, quindi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 Volt, poi pian piano che saliamo passeremo invece a 1, 2, 3, prenderemo meno punti. Lo ripetiamo per diverse tensioni di alimentazione e quello che otteniamo saranno questo set di curve. Sarà questo insieme di curve che ci dirà come si comporta il nostro transistor al variare del carico, quindi del resistore R2 e della corrente in base. Grazie a tutti.